Ma noi abbiamo queste località qui vicino, ragazzi, ma noi scherziamo, noi abbiamo una riviera, noi abbiamo una costiera amalfitana che è un incanto, viene gente da tutto il mondo, ci vanno tutti qua e vanno fuori lui. Noi abbiamo quelli posti, noi abbiamo ischia, capri, abbiamo questi tesori. Eh ma questi sai perché se non vanno fuori all'estero, perché pure mia figlia a volte, mia figlia per esempio se ne va alle Canarie per imparare lo spagnolo, l'anno scorso se ne è andata a Londra per imparare l'inglese. Cioè praticamente fanno l'utero e il dilettevole. Ma tu quando te ne vieni in Italia per imparare l'Italia? Tu stai all'estero a tanti anni. Ho detto fanno l'utile e il deplorevole. Eh, vieni, vieni, tu sei deplorevole, la parola giusta è questa, tu sei Leonardo deplorevole, l'utero guardate, guardate, l'utile e il dilettevole, animale.